Grande Napoli, il miglior Napoli della stagione, con uno spettacolo notevole, un gol di classe, giocata di classe, il Napoli più bello, grande Parma, che dimostra che dobbiamo sempre stare lì, che il campionato non è mai finito, il bello deve ancora arrivare. Però i tifosi del Napoli hanno raggiunto il limite della vergogna, vergogna, una squadra che è al secondo posto, che fa spettacolo, non ci sta nessuno allo stadio. Io vedo la partita dentro a un pub inglese, con inglesi che passano, spagnoli, ma chi è che sta... la partita, che pare che sto guardando, è una partita di 11 fessi che stanno giocando a pallone così, da soli. Ma io dico, ma io non voglio fare più queste brutte figure, posso spiegare a questi ogni volta che a Napoli, che insomma, tenga una capa storta? Come glielo spiega questo qua? Dice, ma costano i biglietti? No, qua al Chelsea paga per la curva 50 euro, 50-60 euro, anche 70, a Napoli sta 10 euro. Ma insomma, ma a Napoli allora forse sta all'ultimo posto, a inserire B? No, è il secondo. Sta lottando ancora per lo scudetto. E allora questi si devono solo vergognare. E anche la società deve fare un qualcosa, perché questa è una... è proprio un'impressione brutta, io lo tasto continuamente, un'impressione brutta che le persone hanno. Ma d'altro canto è ovvio, se tu dici io sono il reddito d'Italia e questa è la mia casa e vedi una casa fatiscente, rotta e scassata e puzzolente, che impressione potresti avere? Ovviamente. Niente, niente, tifosi oramai alla frutta, società che non trova un'idea per cambiare questa cosa, ma fate venire sotto, fate venire i bambini, fate qualcosa. Comunque, torniamo al calcio. Prima di tutto, un addio, un saluto ad Amsic che sembra che con certezza andrà in Cina. Ora, stasera si è visto quanto era importante Amsic. Lasciamo stare il grande lancio spettacolare per Kaleon sul primo gol, ma è inutile. In questa squadra, la squadra con Amsic funzionava bene, probabilmente le difficoltà di Amsic si trovano magari quando hai delle partite forti, dove allora si trova un po' in difficoltà, ma normalmente l'importanza di Amsic si vedeva. Purtroppo non ci sarà più, a meno che mi danno per scontato che andrà in Cina. L'unica cosa buona è che abbiamo comunque buoni centrocampisti, ma ecco, cioè io quella partita come quella di Milano, delle tutte e due, ma soprattutto quella della Coppa Italia, non ne vorrei vedere più. Quella lentezza, ecco, a me Fabian Ruiz piace, ma non mi piacerebbe vederlo in una situazione di regista, eccetera. Quindi comunque, per il momento, grande reazione del Napoli, grande Napoli. Insomma, lo scudetto è ancora lì. Noi basta che vediamo di mantenere questi nove punti fino alla partita del San Paolo. Se vinciamo diventano sei e poi inizia la Coppa dei Campioni per le semifinali per la Juve e dovrà andare a giocare con l'Inter, dovrà andare a giocare con la Roma, squadre interessate a entrare in Champions League. Insomma, il campionato non è vero che è finito. Ma se tu vinci tutte le partite, da oggi il Napoli vince lo scudetto. Questo è garantito. Quindi vedi come dovevi fare, mettetevi là, vincete queste partite e basta. Ma insomma, io non lo so, a un certo punto uno deve... Ho i tifosi lasciati all'istare. La mia proposta è che si chiuda il San Paolo e il Napoli giochi. Le partite casalinghe tipo Piacenza, una città tipo Piacenza, centro, dove puoi prendere tutti i tifosi del nord, calorosi, perché hanno voglia di vedere il Napoli, farebbero uno stadio esaurito. Tifosi calorosi invece di andare in quel frigorifero, quel cimitero, non so come chiamarlo. Ma forse, non so, il poggio reale, altro che San Paolo, quello mi sembra poggio reale. Comunque questo è un giorno di gioia, è un giorno di letizia, perché il Napoli ha vinto e la Juve ha perso due punti. Quindi lo scudetto è ancora a portata di mano. Portata di mano. Lo scudetto è ancora possibile. Basta lottare ogni volta, ogni domenica. Primo obiettivo è raggiungere la partita con la Juventus, vincere quella e poi. E poi da là può succedere di tutto. Da là il Napoli diventa favorito. Certo dobbiamo vincere domenica a Firenze, è difficile. Comunque, grande Napoli, grande Parma, grande Amsic, un augurio per il tuo futuro, piccolissimi tifosi. Arrivederci.